Doveva essere primato solo per una notte e diventato una cavalcata lunga cinque mesi. Il Bitonto se l'invetta nell'anticipo col Taranto e vi resta anche dopo i risultati della domenica. La prima difesa del primato passa il 27 ottobre dal Fanuzzi di Brindisi. L'alchimista Taurino è il grande ex, soffre in tribuna, legge perfettamente la partita, i suoi ragazzi sono cinici, sornioni e si impongono per 3-0. Turito viene atterrato in area di rigore, patierno e implacabile dal dischetto. Poi c'è la prima gioia per Piarulli, che riceve un filtrante delizioso di Biasson, anticipo all'uscita del portiere avversario ed in sacca il 2-0 sotto il settore ospiti, invisibilio. Doppio vantaggio attorno alla mezz'ora. Nella ripresa il Brindisi prova la reazione, costringe il Bitonto all'uomo in meno a causa l'espulsione di Gianfrida, ma non c'è ugualmente storia. Ed anzi, Biasson illumina ancora una volta. Patierno scappa via e fa trissi in contropiede. Chicco lascia il posto a Mercai ed il Fanuzzi gli tributa una splendida stand di Govescio. Un successo nel successo. Il Bitonto va e continua a farlo anche nella battaglia contro il Casarano di inizio novembre. Al Città degli Olive è partita da Marcordi col ritorno d'avversario di mister Pasquale De Candia, il tecnico che tanta emozione ha regalato a Bitonto nei suoi primi due anni in panchina da capo allenatore. Nei serpi salentini sono avversari temibilissimi, ma il Bitonto ci mette cuore, forza difensiva e ha dalla sua anche un pizzico di fortuna. Il Bitonto parte forte, meriterebbe il vantaggio, rischia di andare sotto, ma poi Turito pesca il jolly con una botta al volo da fuori aria. E 1-0 Neroverde, primo gol stagionale per l'esterno barese. Nella ripresa il Casarano reagisce, ma emerge ancora la forza difensiva dei Neroverdi che concludono la loro sesta partita consecutiva senza subire reti. Fare gol al Bitonto inizia ad essere difficile per gli avversari. Il trend positivo prosegue anche in Salento. A Nardò, gara degli ex, Taurino e Patierno su tutti vengono accolti da fischi e polemiche, ma sono loro due gli uomini copertina di un altro successo netto, rotondo e inequivocabile. Taurino fronteggia benissimo qualche acciacco difensivo e legge la perfezione e l'inside del terreno di gioco. E poi c'è Chico che con una tripletta mata il Toro Neretino, un'altra grande prova di forza del Bitonto che irrade una luce accecante ed abbagliante e a lungo in classifica, più 4 sulla seconda. Il sogno inizia a prender corpo. Terminato il filotto dei derby pugliesi, il Bitonto ospita al Città degli Olivi il Grumentum, compagine lucana della Val d'Agri. Una partita che passerà la storia per la sua anomalia. Il 17 novembre si giocano i primi 55 minuti che terminano solo 0-0. Sulla Città dell'Olio infatti si abbatte un violento nubifragio che diventa sempre più copioso durante l'intervallo. Alla ripresa delle ostilità nella seconda frazione di gioco, la terna arbitrale prova a far giocare su un acquitrino per 10 minuti, prima di decretare l'inevitabile sospensione. Il nuovo regolamento costringe a riprendere la gara dal momento della sospensione. Il Bitonto dovrà cercare l'impresa in appena 35 minuti, che si disputeranno mercoledì 27 novembre. Prima però c'è la trasferta ostica di Sorrento. Inizia il mal di campagna per il Bitonto, che vede pure interrompersi a quota 880 minuti, l'imbattibilità della sua porta. Il record viene violato dalla punizione di Herrera, che pareggia al 78esimo la rete del vantaggio bitontino, siglata da Turito 10 minuti prima. Il Bitonto, sotto la pioggia, non sfrutta però l'uomo in più e nel finale spreca una clamorosa occasione per fare bottino pieno. Al fischio finale e 1-1, il Bitonto scivola al secondo posto a meno 1 dal Foggia, prima del recupero col Grumentum e dello scontro diretto contro i rossoneri di corda per una settimana dai cuori forti.